Buongiorno a tutti, allora iniziamo la giornatona con un bel episodio che mi ha colpito particolarmente di Love and Order, stagione 9, episodio 14. Il titolo è Gli embrioni. Allora, inizia da una clinica, da una banca del seme eccetera, vengono rubati contenitore con degli embrioni e il comandante di anche il Kragen, il super comandante, quello che sta sopra Kragen, informa che dovranno seguire loro la vicenda, al che dicono scusate ma non è un bambino, non è una violenza, perché cosa centriamo noi con un furto di embrioni? Perché potenzialmente potrebbero essere dei bambini e allora dovete seguirla voi e inizia, si dipana, la questione comincia ad andare alla banca del seme, chiedono chi erano i donatori, che erano in quella cosa lì e quindi cominciano a sentire varie persone per capire un attimino chi potrebbero essere i colpevoli come si suol dire. Quindi si inizia con la prima situazione vanno da una coppia che è una bimba malatissima che è malatissima, fermiamoci a quello, e che addirittura siccome la madre era sterile per avere un altro bambino decidono di utilizzare gli ovuli della figlia malatissima che praticamente tu la vedi sembra una bambina appena nata, 3, 4, 5 mesi, 6 mesi e invece ha 8 anni proprio perché ha questa malattia, ha questa malattia e in più loro gli hanno bloccato la crescita in modo da portarla subito ad avere più di una certa età per poterla gestire meglio proprio perché non si muove, non cammina, non sente, non vede, probabilmente vede, però o meglio sente ma non capisce eccetera eccetera perché ha detto mia figlia sente i rumori, quindi se parliamo in alta voce si mette a piangere che cosa ma non capisce quello che diciamo, anche la Benson si arrabbia perché dice gli hanno bloccato la crescita, non è giusto, sarebbe anche a 40 anni, 50 anni se io volendola far raggiungere quell'età avrà sempre l'aspetto di una bimba appena nata o poco più e farla fatto per gestirla meglio eccetera perché il marito diceva mia figlia la dobbiamo prendere, portare a mangiare, portare a lavare, portare di qua, portare di là, ah quindi l'avete fatto per vostra comodità eccetera, quindi la Benson si arrabbia, poi naturalmente discutono lei e stable perché giustamente stable, sei figli tutti belli, tutti salvi tutti qua su giù e lei voleva chiamare la cosa dei minori per vedere un attimino la situazione e lui gli dice guarda non lo fare perché per una famiglia così così già è una sofferenza avere questa situazione però logicamente loro quando è apparsa la cosa delle giornali scientifici c'è sempre minacce eccetera perché prendi l'ovulo di tua figlia per farlo fecondare dal marito in vitro lì quello che è e poi farlo impiantare quindi praticamente tu avresti tuo nipote vabbè però ognuno poi naturalmente c'è il gruppo la lega dei valori o qualcosa di simile che pretende che tutti gli ovuli siano usati anche se non sono sani e quindi se tu utilizzi questi ovuli non sani potrebbe nascerti appunto una figlia come quella di queste persone qua dei casi più estremi o magari una bimba da uno eccetera eccetera quindi fai conscientemente nascere cioè io ho visto delle coppie purtroppo dividersi per colpa della seconda figlia del primo figlio quello che volete che purtroppo è dato con problemi della moglie lo diceva mio marito se n'è andato proprio perché nostra figlia è data così così poi non so se era il motivo quello vedo non faccio l'uvi non dico altro ma so che poi naturalmente c'è c'è la ragazza dana b3 20 che la prima figlia gli è nata con una malattia gli è morta tra le braccia quando aveva pochi pochi mesi o forse un anno al che si rivolge alla clinica per poter avere la figlia sana con i suoi ovuli quindi dando gli ovuli loro gli tolgono quel marker pericoloso che potrebbe far nascere la bambina come vite con questa malattia però vogliono usare un ovulo che non gli nasca un figlio nano ma lei vuole un figlio nano allora siccome lei vuole un figlio nano non gli fanno questa questa cosa qui e lei abbastanza non l'ha presa benissimo visto è considerato che ha dato i suoi ovuli anche per studiarli e cercare di capire come evitare di far nascere altri bambini con la stesso problema eccetera eccetera quindi lei sperava che donando gli ovuli poi gli facessero avere un figlio come sono loro perché suo marito è più che danno anche lui e lei voleva un figlio nano e fa non vedo perché io non possa avere un figlio nano solo nada voglio che mia figlia o mio figlio sia danno anche lui poi ahi beh c'è anche una delle persone a cui hanno rubato questi ovuli che ha avuto un tumore quindi prima di fare la chemioterapia ha dato gli ovuli per avere la possibilità di avere un figlio perché lei dove avendo un compagno eccetera e poi anche perché ai meglio aveva detto dobbiamo fare la chemioterapia ma poi dopo la chemioterapia ti salviamo la vita perché ti salviamo dal calcolo è rimasta sterile e quindi ahi beh ci sono tutte queste situazioni e quant'altro alla fine si scopre che sono stati proprio quelli della lega per la difesa dei valori che lo hanno fatto per farsi pubblicità e avevano incaricato la ditta di trasporti di portare gli ovuli in tempo indietro purtroppo la ditta di trasporti la dhl la un ps la gls quella che volete degli stati uniti ci mette troppo tempo quindi loro cercano di andare a scoprire dove si trova il cambio che sta portando questi ovuli ma quando arrivano ormai l'azotto liquido se ne è evaporato e quindi gli ovuli sono da buttare e scatta il processo processo per cui sono accusati di furto aggravato anche la mamma la ragazza che appunto era parte lesa perché non potrà avere più una perché poi dopo si scopre che ci sono altre persone a cui in cui c'erano quegli ovuli lì ma non posso dirvi altro perché se l'ho visto di spoiler o la fine della della cosa gli urla alla giudice dovrebbero essere accusati di omicidio al che lui perché sono barito e moglie questi della lega della dei valori dice si hanno ragione dovrebbero accusarci di omicidio eccetera eccetera perché sono sempre quei gruppi che dicono l'ovulo è da considerare al momento del concepimento della nascita invece negli stati uniti se il bimbo nasce morto al momento che succede qualcosa non è ancora vivo non ha ancora messo nessun respiro viene considerato nulla nulla no la voglia non la prende bene perché vede che lui è sempre lì esaltato eccetera vuole andare a parlare con i giornalisti lei dice no non andare a parlare con i giornalisti assolutamente guardatene bene l'ulta no voglio parlare con i giornalisti voglio parlare più giornalisti mentre lì che parla con i giornalisti e la voglia sede vita viene ucciso e alla fine del film si scopre che è stato ad ucciderlo la motivazione per cui lo ha ucciso ma non vi dico altro perché se no vi spoilerò la fine non voglio spoilerarvi la fine vi ho raccontato la questione eccetera eccetera allora io su questa cosa qui non voglio fare commenti o che cosa ma non sono contrario cioè non vedo perché marito e moglie che non riescono ad avere un figlio in maniera convenzionale piacevole eccetera eccetera c per noi è perché poi per loro sono nove mesi di di l'incasinamento che poi ci fanno pagare perché lo raccontano spesso noi tanti anche pittus l'ha raccontato non ho visto diventare padre ho visto tante coppie cambiare completamente andare in crisi in quei nove mesi poi dipende da persona a persona c'è quello che felicissimo la moglie arriva gli dice aspettiamo un bambino che bello si è quello e e poi ci sono quei nove mesi noi qui magari i primi tre mesi tutto bene poi gli ultimi mesi male ti apporta di questa porta di quell'altro eccetera 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 ognuno poi lo vive in maniera diversa io vedo le vie coppie che conosco è andato tutto bene tutti felici tutti contenti hanno fatto anche il bis magari quindi problemi non ce ne sono stati però capisco anche che magari qualcuno ci prova ci prova ci prova e non ci riesce allora bisogno e non vedo perché uno deve dire non è giusto eccetera eccetera poi qualcuno si offende perché ci sono situazioni in in cui poi addirittura come se fosse un catalogo riuscire ad averlo con determinate caratteristiche e non vedo cosa ci sia di male avere un figlio bellissimo ben venga per lui e ci mancherebbe beato lui che ti nasce un figlio fichissimo che sai già che se avrà gli occhi azzurri eccetera eccetera scegli il colore degli occhi scegli se baschi o femmini posso fare tutto oramai e lo vedo il motivo quello che non capisco era quello che dicevano loro anche gli ovuli scartati li diano a lui che fa niente no io lo vedo perché tu scientemente devi fare nascere un bambino che avrà dei problemi perché poi comunque deve viverla lui la vita e quindi perché devi scegliere di farlo nascere con dei problemi se succede succede ma se lo fa escientemente per avere comunque un figlio e poi chi se ne frega se nasce con qualche problema no se lo fa escientemente di dispiace no è una cosa che sono contrarissimo poi o ditemi la vostra ognuno poi può avere idee contrapposte ripeto se succede ma se lo fa escientemente sapendo che succede anche no per l'egoismo di avere al tassativamente un bambino comunque ragazzoli come sempre love in order regala spunti di riflessione fatemi sapere se voi siete favorevoli o meno alla banca del seme eccetera e addirittura c'era il bond quello più anziano del gruppo no che diceva che c'erano addirittura a 13 figli dati dallo stesso donatore e c'era una un gruppo su facebook o qualcosa di simile la fratellanza o qualcosa dove simile che praticamente cercavano di scoprire come erano nati tramite un donatore sconosciuto che è un numero donatore 1079 per scoprire i 13 fratelli dati da diverso naturalmente donne diverse ma avevano lo stesso genitore che aveva donato e volevano scoprire chi era questo questo genitore ma naturalmente la banca del sede tiene tutto nascosto c'è solo un numero e basta poi magari se capiterà quell'episodio lì che però non mi ricordo sarei dove l'order serenzi e sai eccetera eccetera ve lo racconterò perché c'è stato un episodio proprio per questa cosa qui di qualcuno che cercava ecco io vi saluto vi ringrazio vado adesso a vedere il partitozzo quello delle 16 poi alle 18 vi farò degli altri video come sempre sul tardi vi farò l'hanno gli epilogone della delle due partite che si sono disputate oggi degli ottavi di finale e naturalmente ci vediamo come sempre alla prossima anche questo penso di programmarlo per le 17 di oggi più o meno ciao 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 ciao